Oggi come laboratori AMS siamo qui davanti al Comune a fare questo consiglio a fronte di situazioni che non si sono risolte nel passato, dove ci hanno visto impegnati a dare delle soluzioni per la continuità di questa azienda, ma purtroppo questa amministrazione comunale ha scelto la via peggiore, quella di andare nel concordato. Noi per la strada l'abbiamo censurata sin dall'inizio, quindi abbiamo chiesto espressamente all'amministrazione comunale di ritornare indietro su questa scelta e di prendere in considerazione le varie scelte che sono state messe in campo, che non sono mai state prese in considerazione. Oggi siamo qui come presidio dei lavoratori di AMS, attendiamo delle risposte e staremo qua fino a che non abbiamo delle risposte concrete, serie, serie, lo ribadisco. Vorrei anche ribadire un fatto che abbiamo sentito nei giorni scorsi anche sui social, purtroppo vengono utilizzate anche queste comunicazioni attraverso questi social, dove praticamente si dice che i lavori di teori di AMS hanno molto tempo da perdere. Allora, questo presidio è organizzato sulla base di turnazione tra lavoratori, quindi chi è qui non è al lavoro e quando andremo via di qui per andare a lavorare verremo soddisfatti dagli altri lavoratori. Quindi la situazione è questa al momento. Noi rimarremo qua fino a che non abbiamo delle risposte. Alle 11.30 siamo provocati su dalla Vice Sindaco, speriamo che abbia delle risposte da darci concrete, lo speriamo, altrimenti rimarremo qua.